Una vetrina per le novità è una piattaforma di scambio di notizie. IAA, Veicoli Commerciali è la fiera leader mondiale per il settore mobilità, trasporto e logistica. E quest'anno è stata la vetrina scelta da Renault per presentare in anteprima mondiale la sua visione del futuro delle consegne urbane, la Renault Easy Pro. Questo concept di robot vehicle autonomo, elettrico, connesso e condiviso, incarna la sua visione del futuro delle consegne dell'ultimo miglio. Questo settore rappresenta una delle maggiori opportunità di rivoluzione per inventare un futuro urbano pulito, efficiente e in grado di limitare il traffico superfluo. La Renault Easy Pro incarna perfettamente la nostra visione delle consegne dell'ultimo miglio, integrata all'ecosistema delle smart city di domani. Questo concept rappresenta una soluzione che potrebbe aprire innumerevoli opportunità di business. Easy Pro è un concept che consta di un leader pod autonomo e robot pod senza conducente. Il leader pod autonomo Easy Pro ha il concierge, che libero dall'obbligo di guidare può concentrarsi su attività a valore aggiunto, come la supervisione e la pianificazione dell'itinerario dei robot pod senza conducente. I robot pod autonomi possono seguire il leader pod in modalità platooning, dunque convoglio, ma anche spostarsi indipendentemente per percorrere ognuno il proprio itinerario dell'ultimo miglio. Con Renault Easy Pro proseguiamo il nostro lavoro di esplorazione della mobilità di domani. Questo concept crea grandi opportunità per i professionisti e nel contempo facilita i servizi per tutti gli utenti. Poggia sul DNA della nostra marca che pone l'uomo al centro delle soluzioni. Easy Pro è il secondo capitolo della serie di concept Renault incentrati sui servizi di mobilità urbana condivisa. Easy Pro segue l'avvento di Easy Go, un robot veicolo elettrico connesso, completamente autonomo e condiviso per il trasporto delle persone. Nello stesso spirito di mobilità sostenibile per tutti, l'Easy Pro è al 100% elettrico per un trasporto più pulito e più silenzioso. Renault Easy Pro, la visione futura della consegna dell'ultimo miglio secondo Renault. QUALITO Grazie a tutti